Senatrice Comaroli, dopo le ultime vicende su Roma Capitale, la Lega Nord che cosa ha proposto in commissione per quanto riguarda la legge di stabilità? Noi abbiamo proposto che gli ulteriori 110 milioni che questo governo voleva dare a Roma Capitale, noi invece li abbiamo destinati al fondo per la riduzione delle tasse di tutti i cittadini. Perché dopo tanti anni che tutti i cittadini di tutta Italia danno soldi a Roma Capitale e abbiamo ben visto a che cosa servivano questi soldi, è giusto che ora questi soldi vengano ridati ai cittadini e in che modo? Riducendoli le tasse. Questa è la nostra proposta, speriamo che il governo sia di buon senso anche dopo le dichiarazioni che ha fatto Renzi su questo scandalo che bisogna porre il rimedio, vediamo se li accetterà. Grazie.